Sì, si avvicinava la macchina tutta coperta di nero Piano piano sono scesi 4 armati e hanno cominciato a traspararci sul negozio Ci sono le nostre persone, non abbiamo bisogno di farlo la motivazione è stata siccome noi non scendiamo a protestare con loro allora non eravamo con loro era un motivo per spararci e farci fuori qualsiasi persona che non va con loro è soggetto a fare questa fine qua noi vogliamo le riforme vogliamo la modernizzazione del paese per loro non va bene ci vogliono ci considerano anche se non siamo per il regime però il fatto che non partecipiamo con loro ci considerano per il regime e ci sparano chi non è con loro è automaticamente contro chi non è con loro allora non è peccato commettere praticamente le donne vanno stuprate gli uomini vanno torturati e ammazzati e quindi per questo fa ad esempio per questo è il mio peccato che non sono quello sono stato ferito alla colpito al braccio sinistro mi ha sfragillato tutto l'osso cosa è successo? a Hamon un'altra le hanno colpito alla Anca e uscita dalla pancia le ha praticamente tratturato la spina dorsale e il putella il puto a fare una serie di operazioni quindi un paio ma è sore grazie a tutti grazie a tutti